Gran Caffè Pasticceria Santoro Venite ad assaggiare i nostri prodotti artigianali E il nostro tipico caffè napoletano Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai Eh? Bello questo vino Vino di una volta Fai assaggiare un guaccettino Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No! Aleatico dell'elba? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Gran Caffè Pasticceria Santoro Ci troviamo in via Simone Martini 113-115 Bomero, Napoli 081-579-2060 Ma che bontà! Ma perché? Come mai? Ma perché? In gelateria non ci entro mai Eh? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino! Fai assaggiare un pochettino Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua